Buonasera a tutti e ben ritrovati con il nostro TG Sport. Oggi è giornata di vigilia per quella che sarà la sfida di domani contro il Monza e come di consueto è giornata anche di parole, di conferenze stampa. Ovviamente apriamo con quella del nostro allenatore Andrea Sottil che si è soffermato anche ovviamente sul nostro prossimo avversario. Sentiamo. Mi sembra due giornate, mi sembra esagerato, anche se ho un rosso diretto, però secondo me ho calcato un po' la mano. Questo è il mio pensiero. Cosa gli ho detto? L'unica cosa che si poteva fare era cercare magari di prenderlo per la maglia, però in quegli istanti lì lui secondo me era convinto di prenderlo, di raggiungerlo e poi nell'impeto dell'azione, come ho sempre detto, ha fatto questo sgambetto magari un po' vistoso. Con l'impeto della corsa tutto è sembrato un fallaccio pericoloso, però voglio dire era molto dispiaciuto, chiaramente, soprattutto dispiaciuto per le due giornate. Adesso speriamo che possano essere ridotte a una. Quanto è una chance da sfruttare questa partita e quanto invece può nascondere insidio un avversario così ferito? Per quanto riguarda la partita, in questi calcoli io non sono abituato a fare queste considerazioni e non le deve fare neanche la squadra, perché sono partite difficili. In questa categoria, l'ho già detto e lo ripeto, non ci sono partite facili o partite perché è la neopromossa a zero punti. Neopromossa a zero punti quindi farà una partita di grande determinazione, di grande carica agonistica. C'è un allenatore molto preparato che sicuramente saprà caricare questa partita. Quindi noi dobbiamo avere un approccio devastante, un approccio di grande carica agonistica, di grande umiltà, consapevoli sicuramente che possiamo andarcela a giocare. Questo è chiaro. Il nostro allenatore si è anche soffermato su alcuni singoli nel corso della conferenza stampa, tra cui Beto e Bijol. E Bosele è una delle alternative, è una delle soluzioni o è la soluzione? È una delle soluzioni, è un giocatore più consono per caratteristiche, è di andare iniziare lì, però ho provato anche altre soluzioni, vedremo come faccio sempre. Oggi abbiamo fatto l'ultimo allenamento, quindi le idee sono chiare su quello che sarà l'undici iniziale. So che non ti piace parlare di moduli, ma con il solito 3-5-2 stai anche pensando a delle variazioni? Anche questo ci penserò fino all'ultimo. Ancora sui singoli, come sta Beto? E se è sempre più vicino il suo possibile debutto da titolare? Sta bene, ha lavorato come vi disse un po' di tempo fa, secondo me la sua tabella era alla terza partita. Sicco poteva incominciare a pensare a una sua totale disponibilità, totale vuol dire che può iniziare la partita, quindi bene così, anche se sono stato molto molto contento di come si allena e di come ha giocato i zack-zack-sex. Bijol ha fatto la settimana un po' differenziata, perché aveva questa sensazione ancora di non essere molto lucido, nel senso che non era ancora a posto. Non è stata una settimana top per lui. E in chiave mercato un nuovo talento è sbarcato, scusatemi, in casa bianconera l'attaccante classe 2005 Vivaldo Semedo, un nuovo giocatore dell'Udinese. L'attaccante portoghese arriva dallo Sporting Lisbona e ha siglato un contratto triennale con il club. Ovviamente auguriamo un in bocca al lupo per la sua nuova esperienza a questo giovanissimo talento che si unisce alla famiglia bianconera. Andiamo invece ora ad ascoltare le parole del nostro prossimo avversario, del mister del nostro prossimo avversario, ovvero Giovanni Stroppa. Ha parlato, si è concentrato anche su di noi, sui bianconeri. Quindi andiamo ad ascoltare che cosa ha detto. Per quello che riguarda Sensi, sì, ci sto pensando. Purtroppo non ha lavorato con la squadra questa settimana, ha fatto soltanto la rifinitura di stamattina. Vediamo, anche lui e il discorso di Macin, quindi o dall'inizio o in corso. Per quello che riguarda Cranio è nella mia testa, quindi diciamo che la scelta di Gregorio la porto ancora avanti. Chiudinese si aspetta e come l'ha vista anche nelle prime due gare di campionato? Squadra di categoria, tosta, fisica, che è abituata da anni a fare questa categoria. Cambiando anche l'allenatore non ha cambiato la sua mentalità e il modo di fare calcio e quindi domani è sulla falsariga della partita col Torino. Quindi incontreremo una squadra che individualmente ha centimetri e chili e quindi sarà ancora più difficile vincere i duelli, visto che noi magari abbiamo altre caratteristiche. Vabbè, di sicuro i due risultati a zero potrebbero pesare nel corso della partita, ma non dobbiamo assolutamente scoraggiarci. Abbiamo parlato più volte questa settimana con i ragazzi di andare avanti, di guardare avanti e di cercare di arrivare alla prestazione più che al risultato. chiaramente che il risultato in questo momento è sicuramente importante. Le difficoltà di domani, lo ripeto, affrontiamo una squadra equilibrata che ha fisicità e quindi sarà ancora più importante avere un palleggio e ancora più importante cercare di vincere anche i duelli. Tanti gli infortunati quindi in casa a Brianzola e allora facciamo il punto insieme a Gianluca Viscogliosi della squadra appunto, nostro prossimo avversario, della squadra di Adriano Galliani e a Silvio Berlusconi. Si aprirà qui allo Power Stadium alle mie spalle la terza giornata di Serie A col match delle 18.30 tra Monza e Udinese. Ha parlato Stroppa in conferenza stampa confermando i problemi di formazione dovuti agli infortuni soprattutto in difesa. Non ci saranno Ranocchia e Pablo Mari. Recupera però Carlos Augusto che comporrà insieme a Carboni e a Marlo nel pacchetto difensivo a tre. Attenzione alla questione porta perché ha detto Stroppa, Cragno è nella mia testa e chissà che non possa esserci per l'ex Cagliari il debutto da titolare con la maglia dei Brianzoli scavalcando per la prima volta in stagione d'Alessandro. Spazio probabilmente a Macinna in mezzo al campo e sarà probabilmente Molina a sostituire d'Alessandro sulla corsia con Birindelli dall'altra parte. In avanti inammovibile Petagna che dovrà trovare condizione a detto Stroppa. Un'altra idea per il tecnico è quella di Sensi probabilmente non dal primo minuto perché ha fatto soltanto la rifinitura. Queste le indicazioni di Stroppa per il match di domani tra Monza e Udinese. Non solo Monza Udinese che aprirà il turno della prossima giornata, aprirà il terzo turno di campionato ma tante altre sfide imperdibili da seguire con diversi big match a partire da Lazio Inter che giocheranno subito dopo i bianconeri. Sabato invece altro scontro diretto tra Juve e Roma in contemporanea con Cremonese Torino. In serata invece il Milan di Pioli ospita il Bologna ed il Sassuolo va alla Spezia. Domenica alle 18.30 con Salernitana Sampdoria e Verona Atalanta e chiudo notturno il Napoli ospite di una Fiorentina che questa sera si giocherà l'accesso in Conference League contro gli olandesi del Tuente ed infine Lecce-Empoli. A proposito di competizioni europee si sono concluse i sorteggi per i gironi di Champions League. Allora facciamo il punto anche sulle italiane. Il Napoli è nel girone A insieme all'Ajax, Liverpool e il Rangers di Glasgow. Invece l'Inter si trova nel girone C, un girone tosto per i neroazzurri con Bayer Monaco, il Barcellona e Victoria Pölzen. Nel girone E invece i campioni d'Italia al Milan che affronteranno il Chelsea, il Salzburg e il Dinamo Zagabria. Infine nel girone H insieme al girone della Juve, insieme ai bianconeri di Torino, il Paris Saint-Germain, insieme al Benfica e agli israeliani di Maccabi Haifa. Proseguiamo invece con la primavera perché dopo il primo turno che si è giocato lo scorso fine settimana, la primavera di Jani Sturm contro la Fiorentina che ha perso per 1-0. Ci avviciniamo al secondo turno in cui l'Udinese affronta la Juve. Un match complicato ma rientrano Centis e Castagnaviz. Dopo tre anni di attesa l'Udinese è tornata nell'Olimpo del calcio giovanile con il campionato di primavera 1 che è partito lo scorso weekend. All'esordio la squadra di Jani Sturm è stata sconfitta dalla Fiorentina di Alberto Aquilani che però aveva dalla sua, oltre ad un'oggettiva superiorità tecnica, anche molta più esperienze d'abitudine a certi palcoscenici. Non a caso i Viola lo scorso anno hanno vinto il piccolo double Coppa Italia e Supercoppa non quindi un esordio facile ma di partite facili non è che ce ne siano poi molte. Vedere per credere Milan Frosinone con i ciociari capaci di stendere i rossoneri per 5-3. A domicilio andati in archivio quindi la prima giornata è già il momento di pensare al prossimo turno. Sabato infatti l'Udinese sarà di scena a Torino per affrontare. La Juventus l'anno scorso eliminata alle semifinali Scudetto dalla Roma poi a sua volta battuta in finale dall'Inter e contro i piemontesi ovviamente servirà la partita della vita per tornare in Friuli con un sorriso. Sturmo però è sereno e potrà anche contare su Centis e Castagnaviz assente all'esordio per squalifica. I due centrocampisti dovrebbero giocare dall'inizio e sono pronti a portare qualità ed esperienza essendo stati importanti anche l'anno scorso nella cavalcata promozione. Per quanto riguarda in generale il secondo turno di primavera c'è curiosità per il match tra Atalanta e Torino, due tra le squadre più titolate a livello giovanile e anche per Inter Cagliari l'anno scorso piazzatesi rispettivamente seconda e terza in regular season. Passiamo ora alla palla Spichi con la PU All Wild West che ha raggiunto Tarvisio che sarà sede del ritiro dei bianconeri della palla Spichi fino a lunedì 29 agosto con quartiere generale Hotel Il Cervo. Prima della partenza il presidente della PU All Wild West Udine Alessandro Pedone ha fatto visita alla squadra durante l'allenamento pomeridiano che si è tenuto ieri al Carnera. Il presidente ha portato i suoi saluti ai giocatori e ha voluto caricarli in vista di una stagione impegnativa ed estenuante a cominciare dagli incontri che atteneranno la squadra già nel mese di settembre. In primis il memoria Piera Paglietta intitolato alla memoria della madre del presidente che vedrà i bianconeri impegnati al Paracarnera venerdì 2 settembre alle 20.45 nel derby contro Trieste. Inoltre domani venerdì 26 agosto alle 12.30 verrà presentato alla stampa il nuovo acquisto Cashin Sherrill. Alla conferenza interverrà anche il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette che porterà i saluti da parte dell'amministrazione locale e saranno presenti anche il direttore tecnico dell'area sportiva della PU All Wild West Udine Alberto Martelossi e l'assistant coach Carlo Finetti. Questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi e domani vi ricordo l'appuntamento insieme a Studio e Stadio alle 17.30 per seguire in diretta quella che sarà la sfida tra Monza e Udinese. Buona serata a tutti.